Siamo con la telecamera di Andrea Berardinelli sulla banchina sud del porto canale di Pescara dove ieri si è verificato questo incidente, il braccio della gru della draga che si è spezzato mentre stava effettuando dei lavori lungo la banchina sud per rimuovere le sabbie e i fanghi e per permettere alle imbarcazioni di poter ormeggiare in sicurezza. Sebbene i lavori come potete immaginare sono stati subito sospesi c'è da dire che fortunatamente nessun componente dell'equipaggio e nessuna persona è rimasta ferita e naturalmente la guardia costiera sarà in grado di fornire le cause che hanno portato all'accedimento del braccio della gru. Nonostante tutto però la comandante della direzione marittima di Pescara De Carolis che abbiamo ascoltato si dice fiducioso. Sì in effetti i lavori stavano andando davvero bene purtroppo c'è stato questo piccolo inconveniente in pratica ha ceduto il braccio della gru si tratta di una gru che è al servizio dell'unità quindi non è collegata direttamente al bordo. Si spera anche in contatto siamo in contatto con l'impresa che sta eseguendo i lavori e credo che i tempi sarà una settimana di giorni per riprenderli. Naturalmente voi state facendo delle indagini per capire le cause ma secondo la sua esperienza cosa potrebbe essere accaduto? La gru già in fase di arrivo sono stati verificati tutti i documenti era collaudata in maniera regolare ora in questa fase ci stiamo preoccupando più di liberare la banchina quindi di recuperare il braccio di recuperare la benna e successivamente sarà dato spazio alla parte d'inchiesta grazie anche all'intervento dei tecnici del RINA. Il comandante è fiducioso anche per quanto riguarda il completamento del nuovo porto di Pescara con il taglio della diga e il prolungamento del Mollo Norda ed altri lavori il tutto dovrebbe essere concluso entro due anni. Tornando a questo dragaggio Mimmo Grosso ex presidente associazione armatori. Sì in primi si hanno dato diciamo una mezza spallettata passatemi il termine lì all'avamporto dove era la zona più pericolosa adesso anche se tocchiamo ancora però diciamo usciamo più facilmente. E quindi hanno cominciato a dragare dove attraccano le banchine anche se noi siamo sempre convinti che nel fiume Pescara occorre un dragaggio costante nel tempo come quello di una volta. Non occorre scavare a fondo a fondo a fondo c'è bisogno di un dragaggio costante che togli quel limo che viene giù dai monti. Grazie a tutti.